Radio Base in primo piano, siamo in diretta da San Valentino Torio in compagnia del Sindaco Michele Estrianese. Buongiorno, benvenuto Sindaco. Buongiorno a tutti. Sindaco, cinque anni di consigliatura, adesso lei si avvia verso una nuova sfida elettorale, quindi con questa ricandidatura al governo dell'ente, con una lista civica insieme per San Valentino. Innanzitutto, qual è stata la sfida portata avanti in questi anni e perché è così importante continuare questo percorso? Ma è un impegno totale per il Paese, prima di tutto, 24 ore su 24, una cosa che io avevo promesso in campagna elettorale cinque anni fa, perché penso che oggi chi faccia amministrazione pubblica si debba interamente dedicare a questo, perché altrimenti non si riescono a dare risposte ai cittadini o quantomeno risposte soddisfacenti che possano risolvere i problemi. E' quindi un impegno totale che abbiamo messo in campo io e la mia amministrazione comunale e che vogliamo portare avanti sulla base di un progetto per il Paese che ha portato dei frutti, dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti in tema di riqualificazione urbana, di messa in sicurezza, di restyling strutturale del Paese, ma anche in termini di opportunità che abbiamo dato, per esempio con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, del nuovo regolamento edilizio, quindi una nuova e attuale soprattutto disciplina urbanistica ed edilizia per lo sviluppo delle attività produttive, favorire il lavoro, le opportunità per giovani, famiglie, imprese, tecnici e poi con grande attenzione alle politiche sociali, alle politiche della famiglia, perché per esempio tra le cose più belle che abbiamo fatto abbiamo aperto il primo asilo nido comunale di questo Paese, alla frazione Sciulia, dove avevamo una scuola abbandonata che abbiamo trovato distrutta, vandalizzata, che abbiamo ristrutturato con i fondi del piano di zona e poi all'interno ci abbiamo messo un soggetto gestore tramite una gara pubblica che gestisce questo servizio per bambini tra i 0 e i 3 anni, diciamo, bambini, quindi prima infanzia, 20 bambini appartenenti a 20 famiglie del Paese che hanno soffruito, stanno soffruendo di un servizio con una bassissima compartecipazione di parte privata e poi abbiamo realizzato sei parchi giochi pubblici, non avevamo nemmeno una giostrina in questo Paese nel senso che c'erano due giostrine nella villa comunale che furono realizzate insieme alla villa comunale quindi 20 anni fa e non c'era più nemmeno una giostrina per i bambini e le famiglie quindi chiunque voleva utilizzare una giostrina per un bambino per passare una mezz'oretta di tranquillità doveva spostarsi in altri comuni. Abbiamo realizzato sei parchi giochi, uno alla frazione Sciulia, nei pressi dell'asilo uno alla frazione Cassatori, a Largo Trinciale, uno nell'area delle cooperative edilizie un altro all'interno del centro sportivo polifunzionale, uno a Piazza Ferrovia in corso di realizzazione e uno all'interno della villa comunale dove abbiamo ampliato il parco giochi e abbiamo messo anche una giostrina per i bambini con abilità diverse. E questa è una cosa importante, lavorare sull'inclusione e voglio anche ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che in realtà già la conoscono che lei è anche presidente della provincia di Salerno quindi mi piacerebbe riconcentrarmi sul concetto di qualità della vita qualità della vita che è stata un po' al centro rispetto alla sua attività anche insomma amministrativa e che è al centro della sua attività però nel frattempo noi andiamo ancora un po' in musica e ascoltiamo un brano scelto proprio da lei lei ha scelto, insomma, questa nostra selezione, questa playlist molto particolare Siamo di Eros Ramazzotti perché questo brano? Ma in effetti quella è una canzone scritta per una coppia di fidanzati, di amanti però leggendo le parole si può estendere anche al caso di un gruppo, di un gruppo di persone che amandosi e amando il proprio paese hanno determinate caratteristiche per farlo e quindi ci è piaciuto trasferire questo concetto di una coppia di persone, di amanti di un uomo e una donna che hanno determinate caratteristiche a quelle che può essere un gruppo di persone che insieme lavorano per un territorio mettendoci comunque amore questo è il concetto della scelta di questa canzone Che ascoltiamo adesso su Radio Base Siamo Eros Ramazzotti Siamo Eros Ramazzotti